I primi fiocchi di neve sono scesi anche nell'Aretino. Erano stati infatti annunciati con un'allerta meteo per ghiaccio, neve e nevischio e non si sono fatti attendere. Alle prime luci dell'alba, le prime nevicate, soprattutto in Casentino, tra Poppi e Bibiena, sino a Capolona, lungo la Casentinese, a seguito delle spruzzate di neve, da questa mattina hanno iniziato a passare gli spargisale. Qualche timido fiocco è sceso anche nelle frazioni a nord della città. In allerta già tutti i dispositivi di emergenza, qualora la situazione maltempo dovesse peggiorare. Le strade restano da percorrere con la massima prudenza, anche se al momento tutte quelle della provincia di Arezzo risultano pulite. Solamente nei passi dei mandrioli e della consuma la neve ha creato un leggero strato. La polizia stradale ricorda così che con la neve in queste due strade è interdetto il traffico ai mezzi pesanti.